La Commissione provinciale che non si riuniva più dal resto di Totò Rina, da questa indagine emerge che si era ricostituita, si è ricostituita anche con un metodo particolare perché ha segnato il vertice al più anziano dei componenti dei capi mandamento. Nello stesso momento ha determinato la centralità della Commissione a Palermo, la città di Palermo, non più la provincia, non più Corleone, non più gli altri centri, ma Palermo, la città di Palermo. La prima nuova riunione della rinnovata Commissione di Cosa Nostra, nel corso della quale, dopo aver adottato particolari cautele proprio per raggiungere il luogo dell'incontro, si è discusso innanzitutto delle regole, e cioè dell'esigenza di ristabilire alcune regole che nel corso del tempo si erano un po' perse per strada. Adesso c'è innanzitutto da prendere Messina Denaro che al di fuori comunque della Commissione provinciale è sicuramente il soggetto sul quale c'è tantissima indagine, tantissima attenzione e certamente lo Stato su questo non può ritardare ancora. Grazie.